Ancora un rapido aggiornamento dal sito Info Viaggiando per la situazione del traffico e ancora rallentamenti che come vedete stanno interessando il tratto fra San Giorgio di Nogaro e Latisana a causa di un incidente, traffico sostenuto a causa di un incidente in direzione Torino al chilometro 468. Ma adesso andiamo subito a collegarci con l'Austria con Jacopo Romeo che ci parla delle ultime novità in casa bianconere in questa giornata che è giornata di partita. Jacopo buongiorno. Buongiorno, buongiorno di nuovo Francesco e buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì, come dicevi giustamente tu, è giorno di test, il secondo stagionale per l'Udinese che dopo quello di Tarcento contro la Ravenna quest'oggi se la vedrà a Villac contro la Lilal. Calcio inizio ore 18, noi naturalmente saremo in diretta a partire dalle ore 17.30. E sarà una partita importante perché? Innanzitutto perché continuano ad alzarsi l'asticella degli avversari perché si è iniziato con Ravenna, oggi la Lilal, squadra comunque che vanta delle individualità di primo piano come Sebastiano Giovinco, Gomis, insomma giocatori con un curriculum importante, un passato importante nei massimi campionati europei e sabato poi il percorso culminerà nell'amichevole di Altac contro il Borussia Dortmund. Ma al di là del risultato degli avversari, cosa si aspetta di vedere Mr. Tudor? Si aspetta di vedere dei progressi, dei passi avanti in quello che è il processo di assimilazione dei meccanismi tattici anche nuovi che lui sta cercando di trasmettere dall'inizio di questa preparazione. Vedremo dunque se ci saranno dei grossi cambi di formazione o se pure avremo 3-4 puntelli rispetto alla squadra che era scesa in campo contro la Lilal. Anche perché con ben 35 giocatori qui che si stanno allenando a disposizione qualche scelta andrà fatta anche su chi assisterà anche in virtù di una turnazione che comprende la valutazione e i carichi di lavoro affrontati, chi assisterà alla gara dalla tribuna. Questa mattina però l'Udinese nonostante si giochi a metà del pomeriggio alle ore 18 sosterrà comunque una sorta di allenamento di rifinitura alle ore 10 alla Jacques Le Mans Arena e sarà lì che Mr. Tudor proverà per l'ultima volta lo spartito tattico in vista del match di questo pomeriggio. Jacopo è dunque appuntamento oggi alle 17.30 con la diretta, il prepartita di Udinese a Lilal e poi dalle 18 il calcio d'inizio ma questa mattina nei telegiornali con Jacopo dalla Jacques Le Mans Arena ci aggiorneremo, vi aggiorneremo sulle ultimissime dalla seduta di allenamento. Un po' sarà la rifinitura ma in questo periodo come si sa si mette dentro anche un po' di lavoro che contribuisce a proseguire nel programma di preparazione in vista delle partite ufficiali che arriveranno il 18 agosto con la Coppa Italia e poi di seguito con il campionato. Ma c'è ancora tanta strada da fare, tanti amichevoli da giocare. Andiamo sulla prima pagina del Messaggero Veneto per leggere il titolo sull'Udinese, si parla di mercato, Udinese, Wallace, sorpasso a tre club, il solito Besiktas, Salavese, Dinamo Mosca, l'offerta alla Nover è stata formulata, 6 milioni più bonus più 2 di bonus, la stessa proposta fatta e respinta per il momento dai turchi per Tokoz, altro oggetto del desiderio dell'Udinese. Voci di un possibile ritorno di Ziegler e di De Paul che potrebbe andare al Watford con Deulofeu alla Roma, intrecci di mercato, ma se ne sentono tanti in questo periodo, si legge e si sente di tanti di questi intrecci di mercato che non riguardano soltanto l'Udinese, noi ci limitiamo a dare notizia di quello che leggiamo. Ha respinto il ricorso del Palermo al Coni, adesso Nestorowski è ancora più vicino, potrebbe arrivare davvero a breve la ufficialità dell'acquisto, più che dell'acquisto, del tesseramento di Nestorowski dopo che il Coni ieri ha respinto il ricorso del Palermo che voleva l'iscrizione alla Serie B e invece dovrà ripartire dalla D. Per quanto riguarda la partita di oggi, Tudor vuol vedere passi avanti nel 3-4-2-1, bisogna affermare due come Jovinco e Gomis, sono due giocatori importanti di questo Al-Hilal, con Jovinco che da gennaio di quest'anno ha cambiato paese, ha cambiato squadra, è passato dalla MLS americana dove giocava con la maglia del Toronto per spostarsi in Arabia Saudita e dottare la maglia dell'Al-Hilal, ha preso peraltro anche parte già alla Champions League asiatica, segnando anche un gol e rientrando nella storia perché è l'unico italiano da aver segnato in tutte le edizioni, in tre edizioni della Champions, quella asiatica, quella degli Stati Uniti e quella ovviamente nella Champions League che si disputa in Europa, eccolo qui Jovinco complimentato da un compagno, festeggiato da un compagno dopo un gol. Andiamo sopra in alto a vedere alcune pillole, ammutinamento, Bale, non ho mancato di rispetto a nessuno, l'altro giorno è stato Bale a non voler neppure cambiarsi, così Zidane per chiarire il caso che sta agitando il Real, poi la battaglia di Sinisa Mijailovic che ha completato senza complicazioni il ciclo di chemioterapia iniziato giovedì, ora altre tre settimane di ricovero per curarsi dalla leucemia e poi Chuck per casa Totti, Chuck si gira a casa Totti, l'ex capitano della Roma e la moglie Ilari Blasi hanno iniziato le riprese della loro sitcom che andrà in onda sulle reti Mediaset, nuova carriera dunque per Francesco Totti che passa dal campo alla TV, dove invece la moglie è sicuramente più a suo agio. Proseguiamo con il Messaggero Veneto, poi cambieremo il giornale, andremo a parlare di nuovo di Udinese, qui siamo sui mondiali di nuoto, come vi dicevo in precedenza, ottava finale ridata per Federica Pellegrini, ma l'impresa di ieri è quella di Simona Quadarella, 20 anni, romana, che esulta qui in foto dopo la vittoria di ieri, vittoria è record italiano nei 1500 ai mondiali di nuoto di Guangzhou. E tra un po' arriverà anche il momento di Restivo, sarà domani il debutto dell'atleta Udinese, in gara per la consacrazione, conta la rovescia per Restivo, 200 d'orso per il carabiniero Udinese che vuole un posto tra i grandi, punta ad andare forte dall'inizio per passare il turno, in vasca, a testa bassa, vediamo, speriamo bene, qui vediamo anche una foto di Matteo Restivo con mamma e papà, in Corea i genitori scaricano l'attenzione facendo i turisti, eccoli qui Alessandro e Mariangela, i genitori di Matteo Restivo, in una foto, ricordo, a Seul, assieme all'altro figlio Luca. Qui parliamo anche di ciclismo, Iwan infilza ancora Viviani nella penultima volata regale a Nims, il terzo Gronwengen, quarto Sagan, il danese Fuchs, l'ancade e si ritira, oggi fuga da lontano, poi da domani il durissimo trittico alpino che deciderà le sorti del Tour. Una buona notizia arriva invece per quanto riguarda Mara Navaria, della scherma, eccola qui in foto, l'atleta friulana, carati d'autore alla Navaria, il premio carati d'autore è stato conferito alla spadista azzurra friulana di Carlino, il riconoscimento è stato ideato dall'Associazione Regionale della Stampa Agricola, Agroalimentare dell'Ambiente e del Territorio, del Friuli Venezia Giulia, dell'Asso Enologi FVG e dall'Unione Cuochi dell'FVG. Questa è la prima pagina del messaggero, andiamo sul gazzettino a parlare ancora di sport e in particolare di Udinese, ma in questo caso anche di Pordenone. Igor Tudor contro l'Al Hilal cerca conferme, come dicevamo, nuovo test per tutti i bianconeri di Tudor, oggi alle 18 a Villacco, seconda amichevole con la squadra araba più rodata dei bianconeri, il tecnico croato ruoterà gli uomini a disposizione, dando più spazio all'ultimo arrivo a Cristo Gonzales. La foto di Igor Tudor in primo piano, sotto la testata, nel club arabo allenato dal figlio di Mircia Lucescu, gioca anche Sebastian Jovinko, reduce da quattro stagioni al Toronto. In basso invece per quanto riguarda il mercato, si lavora per Nestorowski, Stuparevic in ritiro, il Napoli pensa ad offrire anche UNAS per avere De Paul, la foto di Filip Stuparevic scattata in ritiro e potrebbe arrivare a breve anche Nestorowski, ecco la foto di Stuparevic, di cui si parla in questo passaggio dell'articolo, tramite il Watford, si presta ad entrare a far parte della famiglia bianconera, anche il talentuoso Filip Stuparevic, l'udinese, aveva sondato il terreno per valorizzare l'attaccante classe 2000 della nazionale serba under 21 ed è stata quindi pescata dal gazzettino questa foto su Instagram di Stuparevic che si trova in ritiro in Carinzia per lavorare con Tudor e compagni. Andiamo sul Pordenone. Ecco qui la notizia della ufficializzazione di Zanon, il terzino di scorta che vuol diventare grande, classe 96, ha firmato un biennale con i ramari, arriva dalla Fiorentina e sarà vice di De Agostini, due anni di esperienza in B con Entella e Ternana, il Pordenone ha creduto in me, voglio ripagarlo. Tanti acquisti da parte del Pordenone per prepararsi bene all'impatto con la Serie B, squadre in campo anche nelle feste natalizie, lo visa unico assente ieri all'assemblea della Liga di Serie B e dunque durante le feste ci sarà il campionato di Serie B, non più quello di Serie A che come sapete torna all'antico con la sosta nel periodo delle festività. e poi ci sono qui a destra altre notizie, i fratelli Buriola riuniti dai ramarri, Augusto Carlonda, allenatore del Polcenigo Budoi ha scelto Stefano come portiere e il bomber Lorenzo nel ruolo a lui congeniale di bomba a orologeria in attacco. Andiamo a vedere però qui in alto perché c'è la foto di Denis Franchi, giovane portiere passato al Paris Saint Germain in tour estivo con la prima squadra, ha di recente firmato il contratto ed è stato immediatamente aggregato alla prima squadra per la fase di preparazione alla prossima Ligue 1. Parliamo adesso di calcio femminile perché ieri siamo stati con Lorenzo Pausa a Tavagnacco per intervistare il vicepresidente Bonanni e per fare il punto sul mercato del Tavagnacco che sta mettendo a segno dei colpi interessanti che possono candidare la squadra ad un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie A, in una serie da femminine che vivrà sicuramente dell'entusiasmo anche generato dai recenti mondiali nei quali l'Italia ha fatto una bellissima figura. Lorenzo Pausa. Mondo nuovo per me però è molto stimolante e motivante questa avventura. Il calcio femminile soprattutto adesso che ci sono stati anche i mondiali è in ascesa, c'è grande visibilità, la prospettiva credo che sia buonissima. Sono molto curioso di vedere anche come rispondono le ragazze lavorando con una metodologia tipica come ho sempre fatto con gli uomini, chiaramente sarà diverso magari l'approccio, la gestione del gruppo. Noi partiamo giovedì 1 agosto e tiriamo fino al 14, dopo di che avremo due giorni liberi a ferragosto. Il campionato so che parte il 14 settembre, ci sono in calendario diversi amichevoli che adesso la società sta prendendo impegni. La prima è la domenica 11 contro una squadra slovena. Credo che il Tavagnaco è vent'anni che in Serie A e quindi la società ha una grandissima esperienza e sicuramente mi metteranno a disposizione una squadra che possa competere, lottare per salvarci, per quello che è l'obiettivo, insomma, mantenere la categoria. Quest'anno abbiamo fatto l'ennesima piccola grande rivoluzione partendo proprio dal mister. Maggiore competizione significa anche allenatori a tempo pieno, preparatori atletici che stanno sempre sul pezzo. Questo è il minimo che devi fare per competere in una Serie A che è praticamente ormai professionistica. I mondiali lasciano tanto entusiasmo, si parla sempre più di calcio femminile e questo è innegabile. Senza nessun spirito di polemica dico che per ora sono aumentati solo i costi, certamente. Ci aspettiamo però che tutta questa attenzione poi porti comunque più ricavi, più sponsor. E dunque questo è l'ospicio di Bonan, abbiamo sentito anche Lugnan, l'allenatore del Tavagnacco, peraltro un atleta che da atleta è passato anche dall'Udinese e adesso farà l'allenatore del Tavagnacco. Un Tavagnacco che si candida sicuramente a diventare una delle squadre protagonisti del prossimo campionato di Serie A che sarà il diciottesimo consecutivo per questa squadra che mantiene anche la tradizione davvero importante con un passato alle spalle che non può non pesare dal punto di vista dell'esperienza nel campionato di Serie A. Andiamo a leggere adesso le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, però abbiamo il collegamento con la polizia locale di Udine, dunque con l'agente Enrico Bolzicco per un aggiornamento sulla situazione del traffico in città ed altre notizie che possono creare problemi alla viabilità su cantieri o su altro che può intralciare il traffico in città. Buongiorno. Buongiorno a voi, per quanto riguarda il traffico in città questa mattina risulta essere tutto regolare e tutto scorrevole, non si riscontrano alcune problematiche sulla viabilità ordinaria. Per quanto riguarda invece i cantieri stradali che possono creare qualche rallentamento, continua il cantiere di via Biella con un senso unico alternato, ma viene comunque garantito il transito degli autobus. Continuano inoltre i cantieri in zona centro storico, quindi via Mercato Vecchio e via L'Aquileia. Quest'ultimo è stato allargato fino all'intersezione con via Zoletti, pertanto non è più possibile l'ingresso in via Aquileia da via Giusti. Altro al momento non c'è da segnalare. Ringraziamo Enrico Bolzicco dalla Centrale Operativa della Polizia Municipale. Vedete le webcam che ci propongono la situazione attuale di qualche minuto fa, una situazione tranquilla con un traffico che è scorrevole, regolare sulle strade della città. E' importante anche le altre segnalazioni che sono state date per quanto riguarda la viabilità ed eventuali problematiche che possono essere causate da cantieri o altro in città. La Gazzetta dello Sport, dunque torniamo sui quotidiani, andiamo a leggere la prima della Gazzetta che celebra la vittoria di Simona Quadarella. Stella mondiale, vince ad oro nel 1500 e fa anche il record, l'azzura domine fa il record italiano. Le decchi da forfè per un virus e lei ne approfitta. Le decchi sicuramente sarebbe stata una delle favorite. Incredibile, Pellegrini in finale nel 200 stile libero, ottava finale per lei, Paltrenieri, detti a voi e domani sarà il turno di estivo, questo lo aggiungiamo noi. Juve Inter, sfida totale in Cina, TV in diretta, Sport Italia, quest'oggi per la International City Cup c'è il primo derby d'Italia stagionale. Quante rivalità dai muri difensivi a Sarri contro l'ex Conte, al duello di mercato tra Paratici e Marotta, qui a centropagina. Un duello della scorsa stagione con Skriniar che si oppone a Cristiano Ronaldo, dieci anni di differenza tra i due nel Juventus Inter dell'anno scorso. La sfida si riproporrà anche oggi nel test in Cina. Si parla poi dell'intrigo, Viola commisso su Chiesa va via, vedremo, Federico chiarisce, decisione rinviata. Sarri fatto però che Chiesa sembra davvero voler abbandonare la Fiorentina. Milan Silva è un giallo, non va più al Monaco ma non si blocca l'arrivo di Correa perché Correa arriverà ugualmente mentre Silva non va al Monaco ed è un giallo. Non si capisce che cosa stia succedendo, se è una questione di soldi o se ci sono altre problematiche alla base di questo intoppo. Corriere dello Sport, l'apertura è proprio per commisso, il nuovo proprietario della Fiorentina, il caso Chiesa scatena il patron Viola. Commisso contro la Juve, in Italia ha troppo potere, in Europa ha mani vuote, sono disgustato. Fede, decideremo insieme, ma davvero la strada sembra ormai tracciata. Il mondo è di Simona, trionfo quadarella, oro mondiale nei 1500 stile libero, bronzo della Carraro nei 100 rana. Oggi tifiamo per Federica Pelleghini alle 13, la finale di 200 stile libero, centrata per l'ottava volta dalla regina del nuoto italiano. In attacco gioca Conte, si parla della partita tra Juventus ed Inter, diretta Sport Italia alle 13.30 dal tecnico Nerazzurro, nuova stoccata. Al club le aspettative cambiano in base alle decisioni. Sarri, Ronaldo deve fare la differenza. Di Bala un falso Nueve, per Di Bala si parla anche di possibile cessione, vedremo dopo su tutto sport. 75 milioni intanto per Sergei Milinkovic-Savic, Pogba al Real, lo United chiama da Lazio per Milinkovic. E poi Milan-Correa stop, Andrè Silva non passa le visite, l'argentino a rischio. E qui troviamo già una notizia contrastante rispetto alla precedente, perché come avete visto sulla gazzetta, Correa arriva ugualmente anche se c'è lo stop di Andrè Silva che non va più al Monaco, non passa le visite. C'è qualche dettaglio in più sul perché sia arrivata la frenata, però si aggiunge anche che non cedendo Andrè Silva, Correa potrebbe saltare, 40 milioni sono stati offerti dal Milano per Correa. Era già tutto fatto, bisognava soltanto chiudere la trattativa per Andrè Silva, prendere i soldi e girarli dall'altra parte. Io mi fido di Antonio, parla Barella, Conte è maniacale e non lascia nulla al caso, credo che ci farà vincere. Mi volevano Napoli e Roma, ma avevo già scelto l'Inter. Lasciamo il Corriere dello Sport e passiamo al Tutto Sport. Ecco qui la notizia che vi anticipavo poco fa, c'è la possibilità di una cessione di Dybala. Dybala cambia tutto, svolta. Dybala dice sì all'eventuale cessione, in prima fila Paris Saint-Germain e United, che sarebbero soluzioni gradite. Per la Juve una possibilità in più di arrivare a Pogba, per Higuain una possibilità di restare in bianco-nero. E sullo sfondo c'è sempre Maurito Icardi, che attende di risolvere la sua situazione. Sembrerebbero Napoli e Juve, chiedo scusa, le squadre in questo momento come possibili approdi dell'argentino. Regina Simone, anche qui celebrato lo splendido successo di Simona Quadarella. Sarri Conte atto primo, comincia una storia incredibile, scrive Alessandro Vocalelli. E poi a sinistra il portiere iraniano che si offre al Torino, Beiran Van. Sogno il derby contro CR7, al Toro Verde di Corsa. Mi ritengo ad altezza, spunta l'ipotesi politano per il Torino, che giovedì giocherà in Europa League il preliminare contro il Debrecen. André Silva salta tutto, Monaco no al Milan. E questo sembra essere il caso di mercato del giorno. Ne sapremo di più sicuramente in giornata su quello che sta succedendo sul fronte Milan-Correa e André Silva che dal Milan dovrebbe andare via, ma il Monaco lo ha bloccato perché non avrebbe passato le visite mediche. Torniamo ad aggiornarci sul traffico. Prima di dare la linea a Guido Gomirato al suo accade oggi e chiudere questa rassegna stampa, la striscia rossa è sempre lì, da San Giorgio di Nogaro alla Tisana. C'è ancora l'incidente che evidentemente non è stato ancora risolto dal punto di vista dello sblocco della viabilità, anche se si tratta di una viabilità non completamente bloccata. Come abbiamo letto prima, ci sono rallentamenti per curiosi sulla tratta. Ecco, vedete, direzione Trieste code a causa di rallentamenti per curiosi tra Porto Gruaro e San Giorgio di Nogaro e questo a causa dell'incidente che è avvenuto e che è segnalato lì e che rallenta il flusso di autovetture da San Giorgio di Nogaro a La Tisana. È tutto da parte mia per questa rassegna stampa. Vi ricordo che oggi trasmetteremo in diretta la partita tra Udinese e Dalilal, dallo stadio Lind di Villac, la gara amichevole che vedrà l'Udinese affrontare i sauditi dell'Aliilal, partita che inizia alle 18, ma noi come sempre saremo in diretta dalle 17.30 con un ampio pre-partita da proporvi con Giorgia Bortolossi in studio e il collegamento dall'Austria, dove ci staremo io e Maurizio Ferrari per darvi le ultime notizie dal campo prima del match e poi per raccontarvi la partita di questa fase di preparazione dell'Udinese. Grazie per averci seguito, Guido Gomilato, accadde oggi, arrivederci a tutti alle 11, il primo appuntamento con l'informazione in diretta al telegiornale e ancora collegamenti dall'Austria per seguire la preparazione dell'Udinese con il nostro Jacopo Romeo. Accadde oggi. Il 24 luglio 1935 nasceva a Udine Giuseppe Virgili, centroattacco dell'Udinese dal 1952 al 1954. In questo periodo ha disputato 35 incontri di campionato, impreziositi da 9 gol segnati. Virgili era figlio di un brigadiere dei vigili urbani di Udine, è cresciuto calcisticamente nel richieratorio festivo udinese e nel 1951, nell'aprile del 1951, ha sostenuto brillantemente un provino con l'Udinese, è entrato a far parte della squadra giovanile bianconera, ma ben presto è stato inserito nella rosa della prima squadra. Ha debuttato il 12 ottobre 1952 a Como e ha disputato in quella stagione un'altra gara, la domenica successiva a Torino contro la Juventus. L'anno dopo è diventato titolare inamovibile dell'Udinese allenata da Giuseppe Bigogno. Alla prima giornata, il 13 settembre 1953, contro il Milan, 2-2 al Moretti di Udine, realizza un gol e Virgili da allora detiene il record come il goleador più giovane dell'Udinese in Serie A, assegnato a 18 anni, un mese e 20 giorni. Fu una stagione sicuramente splendida per lui, tant'è che la Fiorentina lo addocchiò e lo acquistò. Pensate, in cambio di Virgili diede Beltrandi, che era una mezzala niente affatto male, giocatore tecnico, e 75 milioni, un autentico affare per l'Udinese. Virgili rimase alla Fiorentina quattro stagioni, segnando 55 gol in campionato in 101 partite disputate. Vince lo Scudetto nel 55-56. La formazione era Sarti, Magnini, Cervato, Chiappella, Rosetta e Segato, Giuligno, Gratton, Virgili, Montuori e Prini. Virgili segnò qualcosa come 21 reti, entrò a vele spiegate in nazionale. Memorabile fu la sua esibizione il 25 aprile 1956 a Milano davanti a 100 mila spettatori. L'Italia affronta il Brasile, che due anni dopo diventerà campione del mondo. Gli azzurri vincono 3-0, Virgili segna due gol. Sarebbe tripleta se una sua conclusione finita in gol non fosse stata deviata da un difensore carioca. Dopo l'avventura molto, ma molto positiva con la Fiorentina, Virgili passa al Torino, al Talmone Torino. E siamo al 58-59, disputa 25 gare, segna 10 gol. Non bastano per salvare il Torino, che subisce la prima retrocessione della sua gloriosa storia. Ma l'anno successivo, Virgili segna 20 gol in 38 gare e dà una spinta poderosa per il ritorno nella massima categoria da parte della squadra Granata. Dopo due anni con il Torino, passa al Bari e, nella stagione 60-61, è grande, grandissimo protagonista il 30 aprile 1961 a Milano contro il Milan. Il Bari vince 3-1, ma vince senza portiere, perché il titolare Magnanini si infortuna dopo 30 minuti con il Bari in vantaggio per 1-0. Gol segnato proprio da Virgili. Allora il portiere non poteva essere sostituito. Il Bari rimane in 10 uomini e in porta va Virgili, che fa quasi miracoli. Il giorno dopo tutta la stampa italiana celebra il trionfo di Giuseppe Virgili come grande portiere del Bari. Rimane nella squadra pugliese due anni per poi chiudere la sua carriera a Livorno in Serie C. Rimane tre anni nella squadra labronica. Dà un contributo importante per la promozione dalla C alla B dei Toscani per poi chiudere la carriera nel 65-66 con il Taranto disputando appena sei gare. Con la nazionale vanta sette presenze e due gol segnati, quelli di cui ho fatto cenno contro il Brasile. Virgili era soprannominato Pecos Bill perché amava leggere il fumetto dedicato all'eroe western, appunto Pecos Bill. Ma era soprannominato con questo nome anche perché in area di rigore era davvero infallibile, era considerato un autentico cecchino. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.